Eeeh, what's up? Tutti ci sono e benvenuti dai giocherini in questo nuovissimo episodio su Silence Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno dopo che l'ultima volta ragazzi abbiamo avuto un'esperienza mistica Con dei fiori allucinogeni tanto per cambiare E adesso sono curiosa di vedere dove stiamo andando Per cui non perdiamo più tempo e andiamo a giocare Un piccolo annuncio ragazzi, probabilmente domani inizierà una nuova serie Per cui se siete curiosi, state connessi Ok Eh, chissà perché Noah Ok, siamo alla ricerca di Janus ragazzi Allora, vediamo un pochettino Bolle, possiamo farle esplodere? Bolle, bolle, oh mio Dio Questo insetto mi ha rotto proprio il ca Sti insetti ragazzi, vabbè Allora, vediamo un pochettino Crattere con lava Magari si è squarciato e basta Cioè, non è che la terra ti deve stare da spiegazioni a te insomma Fontana di lava Ma dai, davvero Ma dai, davvero, non l'avrei detto Pietra a forma di faccia Interessante What? Che carolo Ma se sbatteva gli occhi? Oh 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 Non è un sasso tra i tanti? Sbatte gli occhi, Noah Te ne sei accorto oppure no? Allora, qua c'è qualcosa Da fischietto per uccelli What? Ah, sarà per Horus ragazzi Prendilo e lo scopriremo No, perché sempre con la faccia così Contrita Forza Eccolo qua Infatti, immaginavo Eh già Eh come no Adesso ti morde Si sacca un dito Minchiavano tanti vatico Stuccello Ah, verso Rini ragazzi Possiamo scegliere anche di Andare da Rini Non so se andare verso Rini ragazzi Ok Vediamo un attimino la situazione di là com'è È veramente incredibile Che se io stia portando due punte E cliccano lo stesso periodo Sul canale ragazzi Oh, è ancora qui C'è Sam Eh, Noah Sei andato Ma non significa che ti ha abbandonato Eh, tanto qua c'è Sam Che ti protegge Direi di dare uno sguardo al poliziere Certo Ok Vediamo se c'è qualcosa interessante Piuttosto Non si apre Ok Cosa c'è? Quindi mi parla Esprimiti Oh Oh Quindi ha praticamente Scagato il proprio fratello Praticamente Allora Spot Ah, Spot è qui Amare Una statura di bambino Non ti fidare Tanto della regina Quanto qua è una stronza E dove dovresti prendere le uova strapazzate Cioè le uova e la pancetta Non lo so Un messaggio Ok Quindi Niente A prescindere Sam se la dorme della grossa Ha trovato pure un carrion Oh mio dio No, 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 no Quello non è un carrion No Rini, oh dio No, no, no No, 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 no Non è il momento di giocare No Se no qua saltiamo in aria Io Sam Sono dei bambini E pure Spot Oh Gesù Controlliamo di nuovo il poliziere Oh merda No Non farlo Oddio Mi sa che dobbiamo farlo per forza Va bene Sparga questo Forse è stata una PESSIMA idea Oserei dire Allora io Direi che Ok Ah ok Qua sarebbe tornare indietro Ok Per cui dobbiamo andare Dobbiamo uscire dal cratere D'accordo Eh Eh Mi sa che abbiamo fatto un disastro No Un disastro forse no Però Porca miseria Rini mette le mani dappertutto Eh Ah Oh eh Oh eh Oh eh Dai Ok Io ci ho provato Non credo Ok Niente da fare Quindi E allora Che Che mi rimane da fare A sto punto Ah cavolo E' il razzo No Non c'è niente Che non va Effettivamente Volevamo Soltanto Perdere un pochettino Di tempo E L'abbiamo sparato Così totalmente A caso Oh eh eh Oh Oh Ma io Qual è la cosa Niente Alarmamento falsa Oh Si Rini Mi ha assurato a morte Non ho pensato 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 Il cratere che ha mentionato E il suo ruolo E il suo simbolo A una porta E tu stai A direzione Volevamo Sì E tira Ma c'era anche Un occhio Dobbiamo uscire Beh troveremo un modo Nessuno la caga Poverina Niente Attira La loro attenzione E a voce alta Direi Ah Blah 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 Quiet You'll attract The seekers But they can't See or hear me They're blind Of course They can't see Niente da fare La sua idea migliore Non è stata accolta Spero non ci metteremo Nei guai ragazzi Ma Kira Nessuno se la ricorda Ok Stiamo impersonando I mandorini quindi Proverei ad andare Direttamente Verso la montagna Oh oh Questa si che sarà Una brutta cosa Stiamo andando da soli Verso Il cercatore E nessuno Se ne è accorto Oh no Di nuovo Di nuovo no Per favore Ma perché c'erano Questa cosa Delle droghe Ragazzi Io non capisco Già Già Quindi aspetta Forse Spot Può mangiarselo Non so se riesce A mangiarlo tutto Non credo Oh mio dio Ha mangiato tutto Davvero Ok Direi che non ci resta Che passare qui Perché la porta Noi di certo Non riusciamo ad aprirla Ragazzi Aspetta di crescere E lo direi di nuovo Va bene Assistiamo di nuovo A una scena Di qualcuno Che si droga Usando spore Tossiche Ok Adesso come Che dovremmo fare Oh poverino E' allergico Ok Quindi Spot Non ci potrà essere Di alcun aiuto Non so se riusciamo Ad arrampicarci Ragazzi No one ever told me About this Poor snakes We'll help you When the blossoms are closed Because then Spot won't have to sneeze Ok Quindi Look at that It's growing out Of the chandelier Ha detto Vi aiuteremo Quando chiuderemo I boccioli O una roba del genere It's right in front Of the entrance Like a guard dog I'll just call it Swad dog Ah ok Vediamo un attimino Allora Come dobbiamo Fare Allora Perché A questo Dobbiamo togliergli L'acqua Quello che è Sul lampadario Di regola Dobbiamo togliergli La luce Proviamo ragazzi A spostare il cane Con Spot Vediamo cosa succede Perché Credo che Attraverso il cane Che arriva l'acqua Al fiore Ok Ok Adesso dovremmo Spostare questa Credo Sì Perché così L'acqua Cadrà giù Poi Nel buco Ok Il problema Del primo fiore Di regola L'abbiamo risolto Torniamo un attimino Dentro Vediamo se è cambiato Qualcosa Ok Ho capito Ma comunque L'aria è piena Di polline Ok Quindi Infatti C'è comunque Polline Nell'aria Proviamo ad usarlo Sulla grata Ragazzi Vediamo se succede Qualcosa Magari No Vabbè Sollevarla Non credo I bet You can open that Ok Adesso si Madonna ragazzi Sto brugo È di una potenza Allucinante Comunque Adesso Per fortuna Possiamo Passare attraverso Grazie mille Spot Per il tuo aiuto Dai Perfetto Adesso Non ci resta Che tirare su Il lampadario Attraverso la catena Vediamo un po' Come fare Eh Ritende Una parola Ok Spot Se lo faccio Così piatto Magari Può adattarsi Alla forma Della finestra Tac Ok Perfetto Pure questo fiore È andato Ci rimane Soltanto Quello Ok Ci rimane Soltanto Quello Del lampadario Ragazzi Oh mio dio Attenzione Si però Assicura Le lampadario Assicura La qualcosa Ok Perfetto A posto A posto Siamo a posto No Perfetto Ok Adesso Non ci resta Che salire Ragazzi Non è stato Per così Difficile Per fortuna Una volta Una volta Saremo su Ovviamente Spot potrà Staccarsi Dalla finestra E potrà Raggiungerci Ecco fatto Tac Comunque Assurdo Che gli altri Non si siano Accorti Che non c'è Ragazzi Andiamo Spotty Mistica Dobbiamo Andarla A prendere Spot Staccati pure Amico Perfetto Adesso Ce la fai A raggiungerlo Certo Oh Che meraviglia Madonna Ma rimbalza Andiamo Sono curiosa Rivedere Cosa è in mente Rini Da fare Con il cercatore Effettivamente Ne sembrava Convintissima Perché Effettivamente È vero Lei ha detto Guarda che i cercatori Non mi vedono Non mi sentono Quindi potrebbe essere Ovviamente Un vantaggio Che c'è amore Non avere paura Non avere paura Che gioia Sgatt Il pastedisci Ho paura Ma lo farò Ragazzi No ragazzi Non ci sente E non ci vede Vabbè Sono ciechi Ok Quindi da non vedere Non vedono nessuno Però Non ci sentono Perfetto Dobbiamo vedere Come fare Oh mio dio Oddio Il cercatore Di sloggiare O chiedi di cortesemente Di andarsene Di sloggiare Ovvio Non saprei Ah possiamo Interagire con lui Ragazzi Certo 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 Ero Che Che Prima Che dici Se andassi via Boh E c'è di continuare a perdere tempo qui Perché non c'era altro con cui interagire Ralf Ralf C'è di continuare a perdere tempo qui Ralf 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 Come on talk to me again Hello Are you one of the stone brothers I heard so much about you Did you Ma dov'è Non c'è Ralf Ralf è di là Te lo posso assicurare L'altro sasso è di là No effettivamente l'aveva riconosciuto Io lo so Io lo so Calmalo Oh Oh I need to find old Janus Have you seen him? Are you talking about the white haired legged one? Dangling upside down from the winged creature? He got carried off to the peak Oh Oh So how can I reach the peak? You need to go through the stone gate Ralph should know how to open it He's always looking that way When was the last time you saw Ralph? So Never Actually He was always behind But the last time I heard him Was when something fell from the sky And the earth started shaking And what did he say? Ah Sounds like he must have fallen down there Oh And here I thought he was just angry with me Ma no perché Ma già sappiamo Vabbè Rini ovviamente non lo sa perché non l'ha visto Però noi sappiamo già dov'è effettivamente Okidoki Okidoki Eccolo là Tac No? Davvero? E allora? Ci serve spot Robinette Per attraversare lì ragazzi O magari c'è qualche oggetto di qua che può esserci utile Vediamo un attimo Andiamo un pochettino Ruota di preghiera Wow Ma perché? Quarzo Wow È una pietra Oh Dubito che tu possa farla a mani nude Eh vabbè Ci proverò lo stesso Tac 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 Wow Già Certo Certo Wow Ok Abbiamo un pezzo di quarzo ragazzi Così talmente A caso Non credo che ci possa servire il pezzo di quarzo Per passare sulla lava Proviamo No mi sa di no ragazzi Niente da fare Ah possiamo usarlo per colpire il cercatore Ma forse cercava questo È quello che cercavi? Ah Meno male Come on spotty Adesso si Adesso si Amare Guardate com'è felice Ah Hai visto che ti ho protetto Non permetterò a me e nessuno di farti del male Forza spot Aiutami a raggiungere Ralph Ah Spott è una bestia allucinante Fantastico Forza Ralph Salda Piano Ok Ciao Che adesso ti riporto da tuo fratello Che adesso ti riporto da tuo fratello Non mi chiami Ralph Ma non mi lascio ti portare a me around Ma come mi devo portare a te là? Non mi importa Ma non mi portare a me Period Sì invece Sì invece Ma Vabbè Niente da fare Perché Dobbiamo farla così difficile Se posso tranquillamente portarti Minchiera Se per forza Scorbuti Gozu Eccoci qua Ah Ah Sì Ah Ah Figurati Vabbè Ringrazia Ingo Per l'offerta You two are so cute We're not cute We're as hard as rock You can help me with that gate You know how to open it Don't you Ralphie You have to properly turn the prayer wheels Ah But they're not in their sockets anyway Ok I'll put them back Because the door will open in the jiffy Kind of sort of Ok Eh Bisogna mettere queste Qui ragazzi Sì Ok Eh Ah però questa l'ha spaccata Se usiamo lo sputo di spot Probabilmente funziona Proviamo Sì ma Eh Che lo sputo di spot Ragazzi Mi sa che Non serve Proviamo ad andare di qua A prendere almeno la prima ruota di preghiera Ecco qua Grazie spot Che cosa farei senza l'idea Ok Madonna Porca pupazza È morto Niente ragazzi Allora stia fuori Io da sola non posso muoverli Magari posso tornare indietro dagli altri E dirgli Oh Guardate che io il cercatore l'ho mandato via Ah Mizzica Non mi fa tornare indietro Ragazzi Oddio Sarebbe a dire E dimmelo E dimmelo Oddio No lo sanno Non mi fa tornare O si Ha 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 The magic song of stones Wow A song? Well we're not supposed to sing that Yes Cause it's a secret But only for emergencies And only supposed to be sung once Every thousand years Madonna And it must be sung by more than one stone Ah but we're sitting well It always has an effect It only works on stones Who are younger Than those who sing it If we sing it You can lift the stone wheels With one finger Davvero That's awesome Then what are you waiting for? Please start singing Wait Give us a second Ahem Dai coraggio Voglio sentirla la canzone Maybe for so Forza ragazzi Ok Proviamo così Ok Let's rock Ahem 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 Don't ride me far so Stones 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 Oh Oh Wait a minute guys I must fix this first Eh E come la giusto Che vuoi fare con la lava Oh mio dio A quanto pare no Ragazzi Vi giuro che ho cliccato così totalmente a caso eh Quanto pare capace pure di tenersi in bocca alla lava Adesso si che sono meravigliata Ok Con questa di regola dovremmo Riuscire A riparare questa Finalmente Così si Now squeeze Oh E vai Adesso si ragazzi Forza e coraggio Ok Let's rock Stones Stones Even very little ones Ones Time doesn't matter to them all All From smallest pebbles to great falls Walls Ok Ok col primo è andata bene Ok Andiamo pure con la seconda Ok A questo punto Visto che Spot può Tenere in bocca la lava Potremmo utilizzarla per bruciare i rovi magari Vediamo se sono sulla strada giusta Ok Eccolo là Che brucia Uhu Ok Mettiamolo al suo posto Perfetto Perfetto Your Grazie Thank you Thank you What's the name of your band Ehh Just call it Sassy Sassy The Show Yeah To wheels are in place But now Alright Listen closely Ok Come qual è la sinistra? Oh merda Ah già No Va bene ragazzi Vedete che devo fare Minchia è lunga la cosa eh Ok Ok Sì sì chiarissimo Va bene Va bene Ok Ha un singolo pensiero della morte Che caspita significa Ok Ok Bellissimo Ok E che non sto capendo il nesso ragazzi effettivamente vi dirò la verità No Porca Questo dovrebbe essere giusto Non so Prova a rigirare questo Ok 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 E che non capisco il nesso ragazzi vi dirò la verità Ma che c'è Ma che c'è entra? Cioè Cioè che c'entra la storia con questi ragazzi? E' finito? Mizzica E' che non ho capito cosa c'entrava la storia Che ne so Che ne so Ah Perfetto Bene Siamo a posto direi Spot Tu puoi risolvere questa situazione? Dimmi di sì Ti prego Madonna Non ci riesce con lui Porca pupazza Prova così Ok E adesso Dai Ma no Io pensavo che mi aprisse la porta What? Va bene Ok Va bene ragazzi Allora Direi che però già abbiamo visto abbastanza Non ho capito veramente l'ultimo enigma Sinceramente Sarò stupida io Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione No putash a tutti ragazzi Ciao Vi ricordo ragazzi Che se volete questi aggiornamenti sul canale Potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione E anche il link per farmi delle donazioni Ciao